Vent'anni fa se ne andava, in un silenzio forse carico di dolore e rabbia, Fulvio Tomizza. Dall'ora, e con una certa periodicità, la sua voce è stata in qualche modo evocata e richiesta, come se non si fosse mai spenta. Strano il destino di un intellettuale che per un certo periodo di tempo, presso una buona fetta della popolazione triestina, gli striani esodati, risultava forse il personaggio più detestato. Lui, che nato in un piccolo centro poco distante da Umago, aveva sempre mantenuto un rapporto viscerale con quella terra, indipendentemente dalla sovranità su esse esercitata. Lui, che aveva studiato a Belgrado e lavorato a Ljubljana, non poteva che essere in viso a più di uno, soprattutto in un periodo in cui a livello nazionale la partita sui confini veniva chiusa, lavorando all'insaputa di molti. Racconta un'istia divisa molto mista, quando il mondo dell'esodo di qua è un mondo che ha fatto questa scelta per scelta di identità e di italianità. Forse è questo come dire che noi non perdonavamo a quel tonizio. Il mondo degli esuli istriani ha fatto questa scelta prima di tutto per una questione di italianità, che non è banalmente sangue, è proprio un modo di sentire, un modo di essere. Ne, allora, servì il premio strega La Miglior Vita ad ascoltarlo meglio. Il momento forse più alto di una produzione che annovera fra i titoli gli sposi di Via Rossetti, Franziska, Il male viene dal nord, la città di Miriam, quel rapporto colpevoli che è una sorta di confessione per certi aspetti micidiale. Ma forse soprattutto Materada, il romanzo d'esordio, dove, parola di chi per certe storie era passato non senza di sentirne, c'è tutta la storia degli esuli. È riuscito a mettere insieme lingua italiana, dialetti, diciamo, istroveneti, parole che in qualche modo sono legate al mondo slavo, per far vedere come, in quella grande epica popolare che lui ha tracciato, i tre aspetti andavano insieme ovunque. Sembra quasi impossibile che fin dagli anni Sessanta Tomizza avesse capito come torto e ragione sono su un crinale molto molto sottile, ma soprattutto come si sarebbe dovuto aspettare un momento prima di giudicare quello che stava succedendo. Ora, più di uno sostiene che sì, Tomizza ha vinto, ma non c'è stata battaglia, mai. Solo la lucidità di un autore che avrebbe voluto che una città, che forse non sentiva sua, ma che in realtà era molto più sua di quanto egli stesso potesse pensare, guardasse da tempo un futuro che non può prescindere dal proprio passato o dalla propria collocazione storico-politico-geografica.